La grande arena è pronta per la premiazione delle squadre. Il bronzo però ce lo portiamo a casa noi. Ecco Graziano Mancinelli, olimpionico, individuale bronzo a squadre qui a Monaco di Baviera. Ed ecco il turno di Raimondo D'Inzeo col suo fiorello. Ed ecco la medaglia a Vittorio Orlandi, questo cavaliere al quale va tutta la nostra ammirazione, tutta la nostra gratitudine per essere stato sempre nell'ombra, per rimanere nell'ombra, per spuntarne però ogni qualvolta l'equilazione italiana ha bisogno di lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.